La ricostruzione privata è conclusa per un terzo, quella pubblica solo per il 12%. Si può sintetizzare così il report fornito ieri dal commissario alla post-sisma 2016 Guido Castelli nell'ottavo anniversario della prima grande scossa del centro Italia, quella che il 24 agosto del 2016 distrusse Amatrice e inaugurò la devastante sequenza sismica conclusa il 18 gennaio 2017. Un evento catastrofico, dice Castelli, che ha determinato la creazione di un cratere di 8.000 km quadrati, una vasta area compresa in quattro regioni, che include 138 comuni. Dopo otto anni, credo che il primo dovere delle istituzioni sia fare memoria delle vittime e delle famiglie che hanno perso i loro cari e i loro beni, e chiedere scusa per i ritardi accumulati in troppe false partenze, un dovere che spetta a chi oggi rappresenta le istituzioni, a prescindere da un cambio di passo che in quest'ultimo anno e mezzo è stato registrato e documentato. Castelli tiene dunque a rimarcare la bontà della sua gestione dell'incarico commissariale rispetto alle precedenti, e lo fa snocciolando non solo i dati assoluti, ma anche e soprattutto quelli recenti. Nel periodo compreso tra il 31 luglio 2022 e il 31 luglio del 2024, dice ancora Castelli, sono state presentate quasi 9.000 richieste di contributo per un importo concesso vicino ai 7 miliardi di euro. L'accelerazione impressa dalla ricostruzione privata viene confermata anche dai dati aggiornati relativi alle erogazioni da parte della Cassa Depositi e Prestiti. Nel periodo che va dal 25 luglio al 12 agosto, rimarca ancora Castelli, le erogazioni da parte della Cassa Depositi e Prestiti nei confronti delle imprese impegnate nella ricostruzione privata ammontano a 76 milioni di euro. Davvero un record considerando il periodo estivo, che fa segnare un più 31,3% rispetto allo stesso periodo del 2023.